15 ottobre 2017 Gianni Colacione per LibreTV di nuovo sul territorio del decimo municipio di Roma che come sapete seguiamo con un'apposita sezione sul nostro sito che si chiama Breccia di Ostia e parliamo delle elezioni che si terranno il 5 novembre in questo territorio per il rinnovo del consiglio municipale che è stato commissariato, sono parecchi mesi che è commissariato e parliamo conoscendo oggi una amica possiamo dire perché l'abbiamo incontrata più volte nelle varie manifestazioni non è mai intervistata però più volte l'abbiamo incontrata nelle varie manifestazioni che abbiamo fatto che abbiamo registrato che abbiamo cercato di farvi conoscere qui sul territorio si chiama Margherita, si candiderà appunto al consiglio di questo municipio, proviamo a conoscerla Margherita, tu sul territorio vivi, sei nata, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, cosa fai? Allora sì, io sono nata a Ostia proprio, quindi nel decimo municipio, ho 20 anni e sono diplomata al liceo Federico Enriquez del liceo linguistico dove ho fatto anche rappresentante di istituto per un paio di anni sono attiva anche da diversi anni sul volontariato, con il volontariato in diverse associazioni che operano sul territorio e da 4 anni a questa parte faccio parte della giovanile del Partito Democratico, quindi dei giovani democratici oggi per le elezioni appunto del 5 novembre del decimo municipio sono la capolista donna della lista del Partito Democratico e quindi sono candidata alle elezioni come rappresentanza a rappresentare appunto il gruppo di giovani che in questi anni ha contribuito alla crescita del partito e al rinnovamento soprattutto Quindi praticamente è la lista che è per Ados De Luca presidente? Esatto, sì, è una lista piena di giovani e che poi si incrocia con chi invece ha più esperienza da poter donare e quindi da poter mettere a disposizione del partito E senti Parichierita, siccome appunto ti abbiamo visto come ho detto nell'introduzione più volte attiva nei volantinaggi, nella testimonianza, nelle manifestazioni, nei sit-in e così via Ecco, quali sono poi gli argomenti su cui tu pensi di poterti al meglio impegnare? Sicuramente, anche se è un discorso molto vasto, il discorso del mare poiché si deve provvedere assolutamente alle decadenze delle concessioni perché sono stati fatti tantissimi abusi e quando si parla di lungomuro, non si parla solo del lungomuro materiale che si vede passeggiando appunto per Ostia ma si parla di tutto, del lungomuro simbolico cioè della privatizzazione del mare che è stata fatta quando il mare dovrebbe essere un bene comune e un bene di tutti Dopodiché, un punto sul quale noi ci batteremo tantissimo è l'aggregazione, sono gli spazi di aggregazione perché i ragazzi della mia età, anche i ragazzi più piccoli, sono costretti a prendersi magari un caffè per vedersi tutti insieme mentre la cultura non è valorizzata, ci sono ragazzi che suonano, che dipingono quindi è possibile attraverso i fondi europei poter aprire degli spazi dove provare musica dove fare dei laboratori di pittura, delle mostre fotografiche e così appunto si permette al cittadino di poter scegliere, di poter fare una scelta e la politica deve dare quell'alternativa che ora sul territorio purtroppo manca Come tu sai la sfida è abbastanza difficile perché a Ostia è stata toccata anche un po' dalle vicende della questione del mondo di mezzo, del processo chiamato mafia capitale un presidente del municipio è stato arrestato a suo tempo Insomma per il PD è ardua, vi siete già in qualche modo, avete preso contatto voi peraltro confermami se ci sono altri giovani outsider come candidati ecco con Ados De Luca per mettere insieme una strategia vincente Certo, diciamo che in questi anni il Partito Democratico ha lavorato si è messo a lavorare su contenuti, soprattutto ha fatto una grande pulizia sia a livello di contenuti e sia a livello di facce e comunque la candidatura mia, la mia candidatura e quella di tanti giovani è un segnale forte di rinnovamento che il partito vuole dare ci siamo rialzati e abbiamo deciso appunto di intraprendere un altro tipo di percorso un percorso che va diretto ai cittadini e che soprattutto si smette di convincere ma si comincia a coinvolgere i cittadini e questo è il primo passo Ados è un candidato penso perfetto per questa campagna elettorale ha già fatto molte battaglie qui nel decimo municipio e adesso si è messo a disposizione, ha più di 60 anni la sua età però si è messo a disposizione, è attivissimo e quindi è una squadra che con chi ha esperienza e la grinta dei giovani riuscirà sicuramente a fare un buon risultato Perfetto, allora in chiusura diciamo le cose anche che sono importanti come riconoscere la tua candidatura al momento della votazione e come troveremo scritto il tuo nome? Esatto, ci sarà appunto la lista del Partito Democratico sono candidata del Partito Democratico quindi basterà barrare con una X appunto il simbolo del Partito Democratico e scrivere accanto Margherita Grande Margherita, come la pizza Margherita, ottima Anche il fiore insomma è riconoscibile abbastanza, si può ricordare facilmente Ci sono i vari modi per ricordarlo, in bocca al lupo allora Anche il fiore insomma è riconoscibile abbastanza, si può ricordare facilmente